e sono partiti stacco della macchina per la lotta per il comando con Ogil Room che all'esterno più bella Griff più all'esterno anche No Way B3 a lottare per andare al comando con più bella Griff che sfila su Ogil Room poi un collocato troviamo anche il numero di che è a largo cerca di mettersi terza con un'operazione che riesce al comando più bella Griff nei confronti di Ogil Room No Way B4 in corda ora Panetta M vediamo le posizioni con Ontario R che è rimasto indietro ha sbagliato 27-1 per i primi 400 e più bella Griff che guida adesso avanza Nilema che però è anticipata da Passione Car dopo i primi 800 metri in 57-9 e così più bella Griff al comando la compagna di colori Passione Car che tiene in terza ruota Nilema che vorrebbe accodarsi almeno in schiena chilometro velocissimo in 13-6 per la categoria con più bella Griff che per il momento ha rintuzzato tutti adesso sposta Pelè Del Pino che cerca di andare lungo Pelè Del Pino che vuole aggirare il treno esterno per profilarsi al lato della battistata più bella Griff che però per il momento reagisce benissimo lungo la corda Ogil Room poi No Way B il ritmo è stato sempre teso e così più bella Griff riesce a tenere a largo tutti gli avversari quando si entra in direttura ad arrivo più bella Griff con all'interno Ogil Room più bella Griff che cerca di staccare Ogil Room che ci prova ma più bella Griff la risolta da tempo e va a vincere su Ogil Room per il terzo No Way B come partono arrivano quando c'è un battistrada così forte 29-1 anche a chiudere 13-6 il tempo al chilometro la vittoria del più bella Griff René Legati 1-74 in chiusura su una comunque valida Ogil Room che segue tutte le andature e su un altrettanto convincente No Way B e anche lei segue tutte le andature è tutto per la sesta del San Paolo 1-13-6 per chi vince linea la regia Un'altra 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 un'altra